ciao a tutti in questo video parleremo dei principali vantaggi del filtro a cono abbiamo parlato in altri video di prodotti che sostituiscono la scatola filtro di serie bene anche questo è uno di quelli ovvero si sostituisce la scatola filtro parliamo di filtro aria di serie con un altro prodotto in questo caso non con un'altra scatola filtro ma direttamente con un filtro aperto quali sono i suoi vantaggi facilità di montaggio molto spesso molto semplice bisogna attaccarlo punto non è molto lungo non ha tubi non bisogna raccordarlo tenerlo solitamente lo si attacca e via chiaramente non è sempre così facile se avete il dubbio se sulla vostra auto possa montare o no contattateci altro vantaggio essendo aperto quindi è proprio così nell'auto va così come lo vedete riceve aria da tutto tutta la sua superficie insomma su tutta la sua superficie in questo caso si tratta di un biconico anche da sopra quindi riceve molta molta aria terzo vantaggio è figo aprire il vano motore e trovare una robetta del genere è molto carino fa molto racing svantaggi quali sono gli svantaggi che nel vano motore c'è aria calda quindi bisogna cercare di metterlo in un punto dove innanzitutto arrivi aria fresca per quanta aria fresca però possa arrivargli un po di aria del vano motore ci sarà quindi se si riesce a schermarlo da quest'aria calda con delle paratie e ebbene non sempre si riesce quindi cosa succede che se l'area del aspirata dal filtro è molto calda sicuramente questa tende ad allargarsi ne entra meno nel vano motore perché è molto difficile comprimere aria calda e quindi non non riusciamo ad ottenere un ottimo rendimento e lo consiglio lo consiglio ecco perché interessato ai primi tre vantaggi quindi di carattere estetico di facilità di utilizzo di ecco economicità perché chiaramente nel box in carbonio costa molto di più di un filtrino del genere questo quico in mano costa meno di 20 euro quindi insomma fate un po voi l'airbox in carbonio vero carbonio meno costoso di qualità costa 125 euro quindi insomma sono sei volte di più più di sei volte quindi ecco la differenza di costo c'è e fatemi delle domande magari se avete delle curiosità in merito a questo prodotto e noi siamo qui continuate a seguirci mi raccomando sui nostri social e sul nostro sito chiaramente trovate questo prodotto e tanti altri repartocorsestore.it al prossimo video ciao ciao